ok si no se avete seguito il video precedente stavamo per completare il puzzle se ci riesco quindi pronti via ok se solo sapessi ok si muove così che diavolo ok no questo va qua i comandi sono invertiti riprendiamo il nostro posto davanti agli ammiratori a teatro questo è finito il famoso regista non sei un impresario ma un assassino la mente di un'organizzazione criminale questo mondo non è bianco o nero alice e ho eseguito i tuoi ordini hai fatto alcune commissioni ti sei sporcata le maniche a fare lo spettacolo distracula il pubblico peccato te lo perda devi vedertela con i marinai tocca a te ora 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 oh l'ora è giunta per parlarvi di navi e di verdure e le ali e se i maiali hanno le ali e così via basta trichecco lamentati che c'è troppa sabbia sulla spiaggia e mi mangerò il tuo grasso a colazione vergognati carpentiere hai fatto una promessa non avevo scelta non si può sempre fare ciò che vorremmo credevo lo sapessi oramai quindi ci ha fregato un poche parole ma noi hanno negato no no va via ah è troppo tardi ah è troppo tardi già morto spero fosse tipo un mini boss qualcosa di genere eh forse è proprio questo che manca questo gioco l'ho provato non ma Sono amici, sono il nostro io segreto, anche il tuo coniglio, Oreste era il tuo confidente, c'era sempre, vero? Voglio arrivare a 800 denti e maxare la Vorpal Blade. Alla prossima. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Amico o nemico? Che è questo? Alice, aiutami a onorare il mio impegno. Ho bisogno dei miei uomini. Ma non ho la bocca. E saranno ostili, ma solo perché la loro anima è imprigionata. Devi liberarli. Ma vogliono essere in pace. Loro non sanno ciò che vogliono. Ciò che è vero per i vivi è spesso vero anche per i morti. Quindi lui mi aiuta. Io aiuto lui. Se io aiuto lui. E andiamo. 740 dai che manca poco. E andiamo. E andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Torna qui! Devo salvarti! Più o meno. E' un cavalluccio marino. No ragazzi scusate, mi sta scattando il computer. E' un cavalluccio marino. Non so che da saltare. E' un cavalluccio marino. Grazie per avermi liberato. Non ci speravo. Ah no, era lui che dovevo liberare. Mi sa. O tutte e due, non ne ho idea. Così, così. Brava ragazza. Brava ragazzi. Grazie a tutti. Stiamo tirando via tutto E' da su Perché fanno tante storie? Sono una preghiera esaudita Ma Sì 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 Ah, sarà il buio, momento di lutar guarda, guarda, guarda già giusto dueppi vedo l'ichael geht Grazie per avermi riunito alla nave Fa in fretta Alice Eh faccio in fretta Però mi sa che dovrò farlo nel prossimo video Alla prossima